Ci ha raggiunto il professor Giulio Tremonti, sono molto contenta che sia qua. Professor Tremonti, ben arrivato, è rimasto con noi Federico Rampini prima del Corriere della Sera. Prima non ho ricordato il suo fermare Pechino, capire la Cina per salvare l'Occidente e mi fa piacere ricordarlo. Professor Tremonti, intanto, la domanda delle domande è, lei l'ha incontrato Putin? Beh, ai vertici, sì, ai vertici del G7 e G8 e altre volte. E? E? Che tipo di persona è? Non è materia da discutere in questo modo. No, però, diciamo, lei mi insegna che la storia, poi alla fine la fanno anche le persone, no? No, allora, secondo... Le persone, le personalità. Secondo me, in questo caso, è la storia che fa la politica, non è la politica che fa la storia. E se vuoi capire quello che è successo e che succederà, devi modiche quantità di storia. Quando cade il muro e finisce il comunismo, fase 1, verso la Russia viene, come dire, viene fatta una politica punitiva. Una politica di esportazione della democrazia da parte dell'Occidente, l'idea che il nostro modello possa essere sostitutivo dei loro storici ancestrali modelli orientali o comunisti. Addirittura si inventavano anche una banca che avrebbe dovuto finanziare lo sviluppo dei paesi dell'Est, con sede a Londra. E in quella fase avviene, tra l'altro, il flagello degli oligarchi. Da noi, col Britannia, è stato un po' meno. Lì è stato molto violento. E quella fase è, in un qualche modo, parte della loro storia e spiega molto di quello che sta succedendo. E quindi ci può far anche ragionare sul fatto che, per esempio, le sanzioni possono funzionare oppure no e che siano già messe in conto? Ci può anche aiutare a capire quali strumenti abbiamo o non abbiamo? Diciamo la fase 1. Poi c'è una fase 2 che è invece quella, diciamo, della integrazione della Russia nell'Unione Europea o nel mondo occidentale. E questa è fase che ricordo molto bene. L'idea era... è l'idea di De Gaulle, è l'idea di Wojtyla, l'Europa è dall'Atlantico agli Urali. E in quella fase l'amministrazione Bush e, devo dire, il presidente Berlusconi, organizzano la integrazione della Russia nel G7, che diventa G8. Il G7 era allora il luogo di assoluto potere nel mondo. Era unificato da un codice linguistico, l'inglese, da un codice economico, il dollaro, da un codice politico, la democrazia. Era ben chiaro che di democrazia in quel paese ce n'era non troppa, per inciso, tutti erano toleranti verso la Cina, che non mi sembrava così. Sì, non è un altro modello, diciamo, di democrazia. Esatto, però l'idea era che... Nel frattempo mi perdoni, ma a casa stanno vedendo delle immagini, così le guardiamo anche insieme a lei. Queste sono immagini che arrivano in diretta da Kiev e forse ci sono anche delle agenzie, giusto Alessio? Sì, il sindaco ha fatto sapere che tutte le stazioni della metropolitana di Kiev, state vedendo le immagini di una città deserta, anche perché l'invito è quello di stare nei rifugi, o di restare a casa, o di raggiungere le stazioni della metropolitana, che ha detto il sindaco saranno sempre disponibili per i cittadini, anche perché sono diventate dei rifugi antiaerei di fortuna per chi è impossibilitato a raggiungere i rifugi. Ed è stato mandato un warning, un allarme, alla popolazione di recarsi subito nei rifugi in caso in cui arrivassero bombardamenti aerei per i quali c'è grande timore, anche dal momento in cui pare che un aeroporto sia stato preso, l'aeroporto di Osmetall, sia stato preso dai russi. Allora, arrivo anche da Federico Nampini, però prima vorrei che lei concludesse il ragionamento perché c'è utile la storia, abbiamo detto un primo punto, un secondo momento che è l'integrazione nel mondo occidentale. Ed è tra l'altro pratica di mare, è l'integrazione della Russia nel mondo occidentale. Poi il destino della Russia in un qualche modo si separa, viene in un qualche modo staccata dal G7, dal G8, prende la sua strada e qui avviene un fenomeno in un qualche modo critico e secondo me è un po' la base di tutto, spiega quello che sta succedendo nel profondo, non sul territorio. Ai tempi di Stalin si diceva, al Kremlin si diceva, la Russia confina con chi vuole, perché avevano la potenza militare, perché avevano l'ideologia comunista che stava diventando globale. Ecco, in modo soft, ma è avvenuto l'opposto negli ultimi anni. L'Unione Europea confina con chi vuole e si estende come modello positivo e progressivo, ma come modello che in un qualche modo si confronta con la società russa, più rigida, meno democratica, meno allegra, meno sviluppata di quella europea. E lì avviene, secondo me, il vero incidente. La Ucraina rifiuta l'accordo doganale con la Russia, probabilmente ha ragione, ma chiede l'accordo commerciale con l'Unione Europea. E questo è il punto di reazione di rottura nel 2014. La reazione russa comincia... Tant'è che sono otto anni che lì in realtà la guerra c'è, non a questa intensità. In realtà, secondo me, alla base di una delle ragioni del confronto prima e del conflitto, ora della guerra, è proprio la reazione del sistema russo che teme che non gradisce il modello europeo. E noi non abbiamo fatto nulla per capire. Le dico un'ultima cosa. Io ho una limitata stima nei confronti di chi governa l'Occidente. Lei lega, non è una grande lettura, è meglio leggere Topolino, il comunicato dei grandi della Terra, il G7, fatto nel giugno dell'anno scorso a Carbis Bay, dove sulla Russia, a parte un sacco di storie incredibili, sulla Russia ci sono due piccoli paragrafi, sulla gender equality ci sono tre pagine. Bene, ecco, io credo che quei turisti della storia abbiano anche loro una colpa nel non avere capito... Turisti della storia mi sembra già una definizione che chiarisce come la pensa lei. E non è che poi al G20 di Roma sia stato molto diverso. Sono andati a buttare... Aspetti, devo sentire Rampini. Perché lei ci ha aiutato a mettere in fila una serie di elementi. Io voglio sapere, dentro questo ripasso della storia che ci ha aiutato a fare Tremonti, vorrei capire il ruolo che ha giocato e che giocano gli Stati Uniti, perché poi c'è un altro elemento che al momento non abbiamo toccato, abbiamo parlato molto di Europa e sicuramente di Russia, voglio capire qual è il ruolo che giocano gli Stati Uniti. E Rampini in questo certamente ci può aiutare. Federico.